Ci ha raggiunto in diretta Jacopo Fo, scrittore. Jacopo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Mi ricordo un tuo intervento, insomma, erano poche settimane fa, con un appello in ginocchio affinché le cose non andassero come sono andate. Allora, ora vengo da te, perché sono molto curiosa di sapere... C'è questo grandissimo colpo del Presidente della Repubblica che ha salvato le economie risparmiatori. Infatti, come dicevate, lo spread è oltre i 300. Però ho una buona notizia, perché qui sono nella vostra sede di Roma, davanti a Montecitorio, e ho appena visto Salvini, che diceva che era molto arrabbiato, invece non è arrabbiato. Sta ballando in maniera scatenata, di gioia, proprio con tutti i militanti della Lega, stanno facendo una danza. Mentre nell'angolo ci sono un gruppo di parlamentari che non saranno più rieletti, che piangono disperati. Ci sono delle revisioni abbastanza così, di questo fatto che Lega e i Cinque Stelle si presenteranno assieme e prenderanno l'80% dei seggi e la Camera al Senato, ma c'è anche qualcuno che sospetta che in realtà Salvini stia facendo il famoso pacco contro pacco contro paccotto. Lui danza e poi mi sembra indiscutibile che non voleva fare il governo, perché questa cosa qui, o Savona o Morte, mi sembra assolutamente ridicolo. Cioè, lui ha messo un'esca, Mattarella c'è cascato dentro con tutta la testa, perché quello che voleva comunque è quello che è successo. Se voleva fare il governo era tutto pronto. Voglio dire, è ridicolo dire che non è possibile fare il governo del cambiamento se non c'è Savona. Giorgetti è veramente una grande persona, perché è uno che per l'interesse di partito si umilia dicendo ma io non sono capace, non posso fare una cosa così difficile. Come se, tra l'altro voglio dire, gli italiani potrebbero pensare che il ministro dell'economia è quello che decide tutto lui. Cioè, se il ministro vuole esce dall'euro, entra dall'euro, esce dall'Europa, eccetera, eccetera. Ma non è vero, perché le decisioni i ministri le prendono con decine di tecnici, di scienziati, ricercatori, economisti. Poi c'è tutto il governo, ma poi c'è il Parlamento. Poi per uscire dall'euro ci vorrà un minimo di referendum. Cioè, è veramente un gioco delle parti. La grande domanda per me è Di Maio, lo sapeva che Salvini stava per tirare un pacco mostruoso e che l'obiettivo era che Mattarella cascasse in questo gioco per arrivare appunto a fare l'Unione 5 Stelle-Lega. Oppure Di Maio veramente credeva che Salvini facesse il governo subito del grande cambiamento. Io però vorrei dire, ho ormai qualche anno di esperienza in Italia, avendo 63 anni. Io vedo che questo governo del grande cambiamento continuano a rimandarlo, forse perché è difficile cambiare realmente le cose. Stiamo assistendo invece a uno di quei classici drammi matrimoniali in cui il marito o la moglie, a seconda dei casi, dice Non so, devo prendere tempo, adesso vado un attimo in vacanza alle Bahamas col mio amante, poi vediamo se torno da mio marito o da mia moglie, indifferente, non voglio dare dei ruoli sessuali che non è proprio il caso. No, no, per carità, cioè queste metafole di copia da quel bacio del murales diciamo ce le siamo portate avanti per tutta la campagna elettorale. Sì, ma capisci che qua la mia preoccupazione sinceramente non è solo politica. Io sto assistendo a una serie di amici e amiche che stanno divorziando, alcuni per motivi politici, perché uno del 5 Stelle però è contento dell'alleanza con Salvini, l'altra invece è contraria, alcune coppie per altri motivi, altre coppie non per motivi politici. Se io credessi all'astrologia, non credo all'astrologia, ma se credessi all'astrologia direi c'è una costellazione della rissa e forse l'unica soluzione è quella del grande Maurizio Costanzo quando diceva buoni, state buoni. Io vorrei dire anche una cosa a Mattarella. Caro Mattarella, se tu fai così, poi spingi sia i 5 Stelle che la Lega a prendere delle posizioni sempre più estreme contro l'Europa. Perché è chiaro che in questa logica nella quale conta la quantità di like su internet, perché ti dico se c'ho i like e poi mi voteranno, che poi bisogna vedere se è vero. Andiamo all'estremizzazione. Sono quelli che davanti alla provocazione rilanciano ed è molto pericoloso.